E benvenuti amici, io sono Salpimpos e oggi siamo su Minds Hints, gioco horror di Blue Sklews ragazzi Può sembrare un gioco colorato, carino e coccoloso, ma... Guardate qua con chi abbiamo a che fare... Non vedo l'ora, play! Un po' in stile... Un po' più playtime, devo dire Salve È una festa Mint Ok, mentre il gato Molto in stile poppy playtime, devo dire Ok, stiamo conoscendo tutti i personaggi che faranno parte di questo party Che parteciperanno a questo party Do you know where Fuchsia is? What's that? He's right behind me There he is Hi Fuchsia I see you've met Sprinkles Are you ready for the party? Wait, stop I've met you Ma lo mangiapri Sprinkles? She's our friend Un po' alla mandata adventure pure Sta mangiando il suo amico Ma quello Si sa L'ha scambiato per un cupcake È normale Se lo stava ciucciando Eccoci In un mondo super iper colorato Che nasconde Tanti sotterfugi Sprinkles Salve Invitati Oh che onore Ok il party sta per iniziare Seguiamo il cupcake Ma sti alberi Allora entriamo così ci presenterà Tutti quanti ma la sbatto sempre in faccia Tutti i giochi ma la sbatto la porta in faccia Fuori sui granny Allora Chi è? Si è bloccata la visuale Mi scusi Ok mi fa passare grazie Molto scorbutico devo dire Allora fatto A chi mi presenti ciccio Si Eh Ok Dobbiamo parlare praticamente con tutti i personaggi che partecipano al party Dopodiché andiamo a cercare Il cupcake Quindi esploriamoci la casa Cerchiamo esseri con la quale parlare E più che altro vivi Ma dove mi trovo? Nella casa delle Barbie C'è qualcuno Oh salve Lei partecipa al party pure Eh Tubby Salve Glug 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 Perfetto Tubby l'abbiamo trovato Nella prossima Tosti dov'è? Eh vabbè Qua mi sto spavendo tutte le case Salve lei Salve Stubby A posto Stubby l'abbiamo trovato Qua presumo che non ci sia nessun altro Quindi torniamo indietro Andiamo dall'altra parte Allora dobbiamo trovare un toast Toast a pane Più che altro Eh Mr. Dryer Ok Eh Mrs. Washer Eccola qua Salve State una favola tutti e due Eh Mr. Tost Non entrare Mi chiede una chiave Per entrare là dentro Eh Tosti Mr. Tosti dov'è? Eh beh Sarà qua in cucina Eccolo Ecco Salve Mr. Tosti Che piccolo Non sei qui per mettermi Nella vasca da bagno? Che senso? Giusto? Sì No tranquillo Non ti ci porto Scuso Sbagliato No no Ormai gli ho detto sì Eh Ne pagherò le conseguenze No no Ecco Oh Grazie Tranquillo Non ti preoccupare Non ti ci metto più Vabbè Me ne vado Andiamo a parlare con il cupcake Ho conosciuto tutti Ciccio O ciccia Non lo so Quello che sei Fatto Yeah Possiamo iniziare il party Per questo game Ok Dobbiamo utilizzare una torcia E keep flash bright Questa sì Ok Per Cercare di vedere degli oggetti E il notebook praticamente è invisibile Eccolo Lint print Require notebook Ok Quindi alcuni oggetti sono visibili solo utilizzando la torcia E che cavolo E levati che non ti voglio parlare Magari era fuori Che ne so Ah notebook in the drawer Ok nel cassetto Qua E che cavolo Tre ore Perfetto Fatto Ora dobbiamo trovare Tre cosucce rilevabili solo con la torcia Ok Tipo Lascene uno New show run La musichetta perché è finita? Ho il vago presentimento Che ne vedremmo delle belle La musichetta perché è terminata? Mi ce l'ha affezionato Dentro il cestino Niente Che si si aprono? Sì Oh eccolo Perfetto Secondo Mint Mint Quello che è E siamo a due Ok Ora il terzo Tabby è qualcosa qua Il terzo è quello Ce il so addirittura Ok mi sembra Era mio amico E mo che è successo poi? Andiamo a parlare con Cupcake E Io Ho paura di questa musica Che si è staccata Perché va bene che Vediamo Yes Ah è ripartito Ok Ok mi siedo Sul trono Perfetto Drag the hints In the correct order Allora Allora La mia risposta È sta In che senso Allora uno mint Due motosega Tre snow runner Si è così proprio L'ha ucciso Mint Solve Not quite Ma il contrario Questo lo metto qua Show runner Uccide Mint E se non è il contrario Oh cavolo Ho detto troppo Eeeh Solving sick Stand up Mi sa tanto Che il gattino Si è incacchiato Chi è? Hello Hello Is someone there? If you can hear me You need to leave Right now There should be a door In the laundry room That leads to the way out But it needs a key If you've made it this far And haven't found the key yet You might need a special Flashbrite to find it I've got a feeling The Flashbrite you need Might be laying around somewhere Equip the Flashbrite Find the key Then get out of there Oh And one more thing Be careful on your way out The foxes could be Extraordinarily wily Le volpi Ma in che senso? Equip Flashbrite Find the key Allora noi dobbiamo aprire quella No La porta all'altra parte Ma che è successo? Sono tutti morti Can't talk right now Ora che le volpi Si siano incacchiate Questo è rimasto vivo però Non è colpa mia Ah no? Sono sicuri? Comunque Dobbiamo trovare La chiave Ma io qua ho visto tutto Con la torcia Com'è che Mi è sfuggito qualcosa Dietro Tabby Niente Andiamo alla ricerca di sta chiave Qua no Ma adesso saranno cambiato Un po' di cosucce No? Seguiamo le impronte Allora Un'altra Ok Quindi adesso abbiamo gli oggetti visibili Con la torcia viola E gli oggetti visibili con la torcia verde Mi state prendendo in giro Allora C'è Quindi la chiave sarà visibile con la torcia viola Vabbè seguiamo le impronte a sto punto Mi sto leggermente preoccupando ragazzi Mi sto leggermente preoccupando Vediamo che c'è di là Sono tutti morti comunque Guardali Eh vabbè vado di qua Ok Noi dobbiamo andare lì La chiave Sono tutti morti La chiave non ce l'abbiamo E non l'ho nemmeno vista Poi tra l'altro Ma posso uscire adesso Ora che questo è morto Fatti Ok Perché vedo tante tombe io Sono tombe di volpi Quindi in teoria la chiave Sarà da queste parti Chi è che mangiucchia lì dentro Non c'è sta chiave Almeno fuori non c'è Ma dentro Ho esplorato tutto Che figlio ha fatto la chiave Dentro il cassetto Dentro il cassetto Tre ore Ok la chiave ce l'abbiamo Possiamo scappare Sarà così semplice Quindi Apro porta con chiave Switch between flash brights To see hidden objects Allora però Non è che è normale sta cosa Hidden object Oh cassetto Non si apre Ok la vedo hidden object Porta Porta Scusa ma perché Altrimenti non mi fa passare Giustamente Se è chiusa E io stacco la torcia Non passo Vedi E non mi ci fa nemmeno interagire Carina questa meccanica Devo dire Non l'avevamo mai vista Ok lì vedo porta Ma devo fare qualcos'altro Io Che mangiucchia qua Che mangiucchia Porta qua Che mangiucchia Ma no Mi sto ricetrugliendo gli occhi E io vago Io vago senza la meta Buongiorno pure a lei Allora il cupcake Ha fatto una brutta fine Quello è sicuro Ma lo devo seguire Ecco è chiuso Quello è sicuro ragazzi Qua porta Porta Più che altro si sposta Ok devo passare da lì Allora Ok qua non mi ci fa passare Però Posso interagire Posso saltare Posso passare sotto Non posso fare niente E' meglio così Allora Qua c'è Vabbè di qua non si può passare Noi possiamo aprire solo porte In che senso In che senso Sono perseguitato Da una volta Ogni tanto le torce Non funzionano più Allora però Non è giusto Ogni tanto le torce si bloccano Mi bloccano anche le torce Ma io posso spingerle E che devo fare Devo semplicemente Allora vado di qua Scusami Ma lo mettono vicinissimo Cioè tu non hai il tempo Cioè tu non hai il tempo di fare niente Poi che te bloccano le torce pure Allora Sta cosa non si può fare però Non è giusto Nei confronti dei videogiocatori Che giocano questi giochi Che li bloccate le torce Alla porta qua La prima è verde Ok viola Che devo fare qui Forse a sinistra Quella non è una porta Allora Ok forse a sinistra Perché quella non è una porta Ma è talmente vicino Che non si capisce Allora Verde Ma l'ha acceso a lui automaticamente Ok Verde Tac Poi rosa Però nel dubbio Faccio accendere e spegne Rosa Poi di nuovo verde Ma sbagliamo Dobbiamo stare attenti A capire Quali sono ostacoli E quali sono porte Quello è tutto il trucco Però vedo Ogni tanto mi switcha da solo Forse io non devo toccare niente Allora Vedi La porta la vedo Ora io non sto toccando niente E mi switcha da solo la lampada Vedi Quindi forse non tocco niente Allora Scusi Sto in me Me le cambiano loro Vedi che cambia da solo Allora qua Ho fatto un giro Cambia da solo Perché Via 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 Porticina tattica Sinistro Destra Non vedo più Non vedo più Destra Via Che me ne vado Me ne vado Dove Boo Non ci sto capendo più niente Via Via Sinistro Destra Boo Destra Dai Ma così no Però Cioè tu devi scegliere Lo sinistro Destra Ma tu non è che vedi dove che puoi andare Qual è quella giusta Allora E rieccomi qua Di qua Finché il percorso è mezzo segnato così Ma va bene anche il capire dove andare Però Fatemi intuire Prima di prendere la direzione Dove cacchio devo andare Qua io ho preso Boo Da sinistra Qua te li metto talmente vicino Che tu basta un errore E T'ammazzano E qua Vado Do Sinistro Allora è sempre sinistro Non lo so No poco fa sono andato a sinistra e a destra Ora è a destra No Mi ha sfiorato la faccia proprio Mi ha letteralmente sfiorato la faccia O leva E me ne vado Vabbè c'era da memorizzare il percorso E ora Attenzione Bello Bello sto quadro Lo vorrei qui a casa mia Dritto per dritto In teoria sono scappato No? Si ma accendo la luce In teoria sono scappato Perché Comunque ho prenduto l'ascensore Dove sto andando? Giro Giro Ah sto scendendo Sto scendendo Per andare a scoppare Negli inferi della terra Vedo qualcosa là Sinistro o destra? Capitolo 2 Coming soon Ma come? Mi wish list On steam Carino Carino A parte il fatto che tu comunque Il percorso te lo devi memorizzare Perché non è che vai a Cioè C'è un intuito là Quando sbagli E la prossima volta Fai la scelta opposta Questa versione è gratuita E vi lascio il link in descrizione Ma evidentemente Il capitolo Completo Con il capitolo 2 Il 3 Eccetera eccetera Uscirà su steam E attualmente è possibile Aggiungerlo in wish list Molto carino Dai Volendo Sviluppatori Aggiungete anche l'italiano Perché a livello di lore Di storia potrebbe interessare Quindi ragazzoni Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se ancora siete iscritti Attivate la campanella E poi c'è tutto Al prossimo video